Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Mabettino, oggi siamo su BlockStorm, uno sparatutto ad azione, così, va abbastanza carino, con una grafica tipo mistrata, tipo Lego, tipo Minecraft, va abbastanza carino, soprattutto per giocare così tra amici e cazzeggiare un pochino, ovviamente non è Nè CheeseGo, Nè Mountain Grounds, ovviamente, anche perché è un genere che a me non piace tantissimo, però questo qui diciamo un po' così alla Carlona, diciamo, ci si può anche giocare per farsi le due risate. Vi ricordo che i miei su YouTube sono delle mie live su Twitch, io faccio delle live ogni giorno su Twitch verso le 5 del pomeriggio, dal lunedì al sabato e domenica, lasciatemi la libera, quindi vi invito a registrarvi su Twitch se volete vedere le mie live in diretta, altrimenti le vedrete editate qua su YouTube, ma andiamo a giocare. E chi è quella con la ciava missile? Chi sarà mai? Chi sarà mai? Chi sarà mai? Una da sinistra! Ti ho ucciso, scusa. Allora, se prendo i fucili da cecchino, mi ritrovo tutti addosso, se prendo il punto, mi ritrovo tutti lontano. Facciamo verso. Facchi, zette! Facchi, zette! Facchi, zette! Facchi, zette! Facchi, zette! C'è un cecchino, non vedo nessuno. Ci sono due sul tetto centrale. No, ma ce ne faccio, ce la vedo. Uno destra. Davanti a te. Eh, so, sta lanciando bombi, arrivo, arrivo. No, no, vai, 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 vai. Dai che c'è un cecchino, vai. Sì, sì, ho visto. Monarchi, bloccato l'uscita. Uno sul tetto. Orda. Orda. Orda, Orda, muoio. Ah. No, non va bene, lancerazzo. Ci vuole, magari... Ci vuole. Ci vuole. Fermata. E anche il genio. No. No, li diamo. Sto. Pistolina. C'è uno con la pistolina? Nice. No, lo usino assolutamente di salire. Oh, uno in base! Ok, basta. Dopo che prima è arrivato un colpo di pompe in bocca. Mi sono arrivato sotto. No, è il rosso. Oh, shit. Sì. Al centro? Sì. Sì, ma ho preso lì il cecchino e gli scaffoni fuori uno. No, non so. Il titolo. Il titolo nazionale. No, il titolo nazionale. Come è il nostro faccio all'avversaria? Capisco. Ok, lo sento. avuto e lo schiame. Avuto un sottetto di spina... Avuto avuto il titolo nazionale. no ma come tutto scappa niente eh no mi fregare se devo cambiare questo devo fare così ma ci sono anche i bussantirapidi su sto gioco allora se io premo q cazzo e allora si dunque se con la quale c'è la coltella tutti molto no sarà bassissimo di vita non c'è ancora morto no c'è questo qui colpo che si avrebbero fatto un po' un po' le balle eh ah io anch'io nooo non mi capita che non c'è la mucca no regato regato malissimo seccato io oh bravo nice nice ecco lì nice c'è un altro vieni fuori eh ma ucciso malissimo no allora il pompa non va bene mi serve eh fucile massimo questo forte che ammazza tutti qualcuno forte che devo dire una volevi accoltellarmi eh quattro no c'era un altro sono seccavo male ma chi l'hai visto e non hai sparato c'era un po' il quale è che io sono da un'altra porta erano avanti ho visto perché tutti sto guardando vabbè 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 no vabbè soprattutto spot che non sconda destro le dro non vabbè in water si sono così bene un quarto d'ora almeno per sparare gioco solo di minina e forse di Claymore ma non è anche le granate c'è una traccia che sta facendo il giro ti è invece che non ha minecraft dici? uguale tu è squale che è da dietro oddio non ci credo madonna che campano di merda ci campano allo spawn ma niente il fucile bene usare il fucile ci sono due su destra e l'azienda che campano in alto ah non ci sono tre volevi anche da dietro non ci colmica sono deciso che la minica è la mia arma la uzi dici che la mia arma troppo troppo bene se compare dai compare no se vuoi compare molto non sei mai ma ti vieni qua guarda non c'è un corpo nice c'è un pertugio dove arriva il campero riguarda lì non c'è un po' 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 trovare ma questo vuoi trovare il pulsante rapido per tirare le granate c'è il mc è perché sono sicuro che c'è ma penso che lo puoi anche sentire un uu mette un fregato è stato un frattempo ok sponso lo sponso no sentite che non lo sponso questo è un fregatoio no no ma no qua si c'è sparando uff 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 ok l'ho visto inutile che salti ti ha suicidato ah ho visto dove è il metro portano uff 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 queste mappe mi ricordo una volta che ero prima e dominavo tutti gli altri uff 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 no uff questo non si è gripato ecco cosa che va a vedere adesso lo cerco ok setting allora forward rest space s svelo per court cos'è da q3s non succede ma indietro e per tra l'inzio per il cliente tappato ho sensibile che si sono fissi allo sponestino per l'estate sponso buonanotte su un po' santo carino tra un po' che questo è un po' sostenibile no non ci credo scuole pompa prende pompa e questo ma sono andato mi mi chiede lo spawn ma infatti sto allo spawn e lo aspetta madonna questo tipo questa cosa è una merda lo stupro aspetta un po' hello bitch no non mi chiedere no possibile troia sta a caperare ma non so sta a caperare sta anche da lontano quel pompo ma no ok dov'è muore puttana finalmente eh andate il colpo di ragazzi ok ma come si fa a lanciare le bombe eeeh rapidamente aspetta un controllo non lo so tari ti per ti per ti ci sa a caperare ma vedi loro tutt'al'e d'inco' no non è morto no non è morto ok ovvi nuova c'è uno sulla destra si fatto Uccide No, non intendo l'RPG Si mira a zero con questo Ok, devi sparare tutto No, si stima No, questo devo ucciderlo con la lancerazzo Non è morto Ma hai un'HCIT? Non è possibile Non è possibile che non ci muore Non è possibile Non c'è altra scelta No, mi sono fatto inculare comunque l'hCIT Non c'è altra scelta Non c'è altra scelta Prendiamo 360 giro c'è quello che fa sensori è esatto quel sensore ah facevate gli stro in 2 se volerà una campagna lo spawn seccate tutte e due nice ma che c'è per fare gli stro se ci si rimette c'è poi quando reggi quanti il lato male io non ho fatto un posto due volte con cosa stavolta nello spawner dai passaci passaci c'è passato non è passato non è passato appena va passato alla trappola che merda neanche si dimasse se 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 no vabbè 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 ragazzi direi di concludere qui spero vi siete diventi di questa partitellina così e voglio in ultimo ringraziare parlorico riccardo che mi ha gentilmente regalato il gioco e niente ragazzi spero vi siete diventiti come sempre vi ricordo la live su twitch iscrivetevi sul canale di twitch di youtube lasciate like commentare che vi fa piacere parlare con voi ciao ciao ciao